Qui ci troviamo in una piazzetta dove possiamo contare almeno otto ristoranti, i proprietari non fanno altro che man mano che, ecco guardate quello lì, la gente passa, questi chiamano si cercano di accalaffiare, ecco quello lì è riuscito a beccarne 4 ecco qua c'è l'altro, una chiama a destra una chiama a sinistra questo qua chiama pure, poi ce ne sono altri quelli che riescono a tirare hanno una percentuale hanno una percentuale, sono proprietari, sono gli addetti ai servizi ecco la gente, man mano che passa, guardate quello lì com'è questo qua ecco, gli indica dove andare, eh vabbè dai, qui funziona così, sono un po' uno scassamento comunque, è una caratteristica infatti, guarda i pappagalli, va, queste qua si aspetta qualcuno